l'aria di napoli in vendita ragazzi finalmente i video sono virali allora io farei un punto esclamativo aria ok assieme a punto esclamativo pari per comprare queste boccette di aria napoletana beh sì quante volte siamo svegliati la mattina abbiamo detto avrei proprio voglia di respirare un po di aria napoletana e poi c'è la soluzione no te pippi una boccettina dice che non vale scende per buttare la mondezza beh se abiti a napoli ma che roba che già l'atto in sé potrebbe dare vibes territoriali si può scaricare dalle tasse penso che sì perché comunque è patrimonio nazionale napoli patrimonio artistico io quando mi sveglio me la pipperei una bella boccetta ma lo sai che lo sai che cioè si dice vedi napoli e poi muori odori napoli e poi vivi su tiktok stanno spopolando i video di un tiktoker della splendida città campana quale delle tante beh salerno ah vabbè splendida effetti nei tiktok in questione vengono mostrate delle bottigliette contenenti aria di napoli le bottigliette in questione sono delle simpatiche calamite in vendita ad un euro in molt si chiederebbero ma chi pagherebbe mai per queste ampolle ampolla ampolla mi piace tantissimo è tipo un termine alla dnd ma sì perché c'ha il tappetto quello tipo di sughero come si chiamano queste cose come che vengono chiamate le pozioni ma sai che a me mi sono sempre piaciute pure a me gli unguenti tutti questi termini ora tocchiamo questo argomento pure se non c'entra un cazzo io quando ero piccolino avevo le fisse pelle ampolle proprio col tappo così dentro le cose colorate bravo quindi un giorno quando mi ricordo non è che come le rimediai ci visi dentro i gatorade per avere le cose capito quella celeste quella quella rossa che ero lo stregone capito ma sì perché vedevo quando ero ragazzino quello dei crash bandicoot e il villain che ora non mi ricordo il nome ce lo diranno in chat quello che faceva così con le pozioni se beveva no quello la parente de brio bravi brio il parente de cortex il primo crash e stavo fissa con ste cazzo di ampolle che dovevano essere tipo quelle da laboratorio pure vedendo Harry Potter le pozioni c'avevo sta fissa qua non mi chiedete per quale motivo io c'avevo la fissa che volevo possedere le ampolle quando ero ragazzino questa cosa è mago c'è sta c'è sta tra l'altro faceva i palleggi con le pozioni avevano reso marketing anche anche questa questa voglia di manipolazione da alchemista con la fabbrica dei mostri oddio è vero è vero quella quei colori che vedevi così poi mettevi dentro quella specie di fornetto mai avuta ma sempre desiderata io c'avevo la sottomarca non quella originale c'era una merda originale non so se te la ricordi perché la vendevano non facevano la pubblicità ma la vendevano e cane pazzo proprio l'originale solo che venivano proprio il colore si fondeva non era mai preciso però era bello è che ricordo il rosso e il verde capito che facevi tutte così la fabbrica delle malattie secondo me il covid è nato proprio da una fabbrica dei mostri mai spacchettata e spacchettata nel 2020 cioè più 3d che fa un format simile che fa vedere tipo le cazzatine di anni e anni fa davvero si ma vedi che è molto interessante che effettivamente giravano un sacco di cose che potevano nuocere all'incolumità dei ragazzini io mi ricordo con la roba la definiva in bocca e rifinita era l'ordine del giorno c'è trafficato con quella roba mono mono non esiste più neanche lontanamente stanno le mamme i giocattoli da 100 euro capito le crystal ball pure sì mamma mia le cristale ball vediamo sta qua come fai a sapere quando si è riempita adesso te lo dimostro guardami attentamente allora prendo la siringa ragazzi ho le finestre a spira l'aria è giusto non è uno sprovveduto chiaramente sto ragazzo facendo il prelievo ma così esce però la prendo la fatta un po sci ai sa mette un orecchio dobbiamo riempire un altro poco quanto invidio il genio napoletano veramente sono dei maestri aspetta un secondo ecco qua adesso è riempita fine sopra ti mando un bacione forte forte da napoli lo respiro grazie c'è la maglietta di tupac ragazzi buongiorno sta mescolando l'aria giustamente sta mescolando l'aria questo è un genio di napoli vuote tupac tupac da napoli buongiorno ma le vende veramente c'è un link non credo penso proprio che sì e compriamola allora compriamo la carta aziendale quante cento centinaio e lanciamo al party a bergamo tipo per dalla benedizione oh dio le regaliamo oh dio regà oh dio ma avete avuto un'idea assurda giallo avete avuto un'idea pazzesca ma anche simone se noi compriamo cento di queste boccette e le apriamo contemporaneamente ad un party minchia stava a napoli il party si trasformerebbe in cerbero party a napoli seppure a bergamo respiriamo tutti iniziamo ragazzi al nostro tre apriamo l'aria del cerbero su instagram fa vedere l'aria dello studio del cerbero poi se vi sentite male non è colpa nostra noi possiamo ragazzi guardate io potrei fare l'equivalente con i miei odori corporei e mo non voglio di esclusivamente mo i peti perché magari sarebbe già il prezzo alto però sai con quanti odori corpore del sio oppure che ne so di youtube di davide si possono fare boccettine o desio ognuno simone tu simone qual è la parte del corpo che vorresti più immortalarlo odore per poi venderlo oppure qualche odore che fuoriesce da te ogni tanto non so qual è la tua peculiarità odorea allora potrei prendere innanzitutto la parte qua dietro all'orecchio tutta questa qua starci e metterlo in un'ampolla poi tipo l'ascella ovviamente il sudore del dei peli pubblici sotto palla pure sotto palla e peli del culo sudati peli del culo dopo 73 scoregge a 73 sì 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 ma sei arrivato a questo numero con un'equazione sì vabbè non voterate mai non conto magari dipende 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 beh davide sta domanda sarebbe come non ignorare le elefante nelle e la stanza tocca capire se vuoi vendere o no il seme visto il tuo nome ultimo non so visto le richieste sì ma anche perché cioè vuoi solo odori che secondo me ho dimostrato di avere geni buoni considerando la bellezza di mia figlia no quindi potrebbe diventare un'ottima operazione ah dici che poi lo potrebbero usare invece che farlo bravo invece che farlo in modo serio con la banca del seme eccetera le produco io in qualche modo mi arrangiate capito che adesso prendete una siringa mi infilate tutto dentro basta un po' tumaccio così grazie 666 il film di quello cieco non so se l'hai visto ho visto un film tempo fa tipo di uno cieco che stava tipo con uno sparaseme così non c'ho presente tipo becca una dentro una cantina gli infila lo sparaseme pieno di roba ma che cazzo è film è un film horror ah horror ok si si man in the dark bravo quello cieco che gli entrano dentro casa per apinarlo invece quello era tipo uno che aveva fatto la guerra pure matto poi era cieco e quindi pure in quanto cieco bravo pure in quanto cieco dice c'ho tre ladri ragazzetti dentro casa che faccio li uccido per dire chiude casa e li vuole uccidere poi c'è il film che non che non molto carino molto carino soprattutto con sta macchina sparasborra tipo soprattutto dopo questa proposta gianluca la gente potrebbe effettivamente dire mio padre non ironicamente grazie